Il 27 di novembre avremo il plenilugno in gemelli intitolato oltre i perbenismi. Ci sarà chiaro durante l'esposizione dell'episodio, ci basti pensare che porta in maturazione il 9 luglio del 18 giugno, accaduto pochi giorni dopo l'ingresso di Sedna in gemelli, quella che dovrebbe aiutarci a fare lo sprotocollo dalla Matrix e con un titolo a suo tempo dato, alto voltaggio con dei giochi di parole, altro voltaggio e oltraggio. Quindi tutto un movimento in questi mesi per scuotere le nostre sinapsi e aprirsi a nuove comprensioni che riescano a vedere oltre l'apparente contraposizione. Benvenuti a Oltre il Velo, a questo episodio dedicato al plenilugno in gemelli del 27 di novembre 2023. Come sempre grazie a tutti voi iscritti al canale e anche ai nuovi arrivati, a coloro che diffondono questi video che sono tantissimi. Vi ricordo che andando a spulciare dentro il canale potete trovare tanti tanti contributi perché spesso mi capita insomma di scoprire che le persone non si sono accorte che c'erano tante cose dietro. Ringrazio anche gli iscritti al canale Telegram Oltre il Velo 6 tutto attaccato col 6 a cifra perché lì posto ogni tanto dei contributi iscritti. Allora andiamo subito a parlare di questo plenilugno perché io lo ritengo di grande importanza. Lo ritengo quasi visto che i gemelli sono classicamente il segno della prima volta che incontriamo due lati della questione e sono due parti di noi che poi si gestiscono strada facendo durante quell'espressione degli altri segni zodiacali e sono emblematici delle contrapposizioni che noi abbiamo nel nostro corpo. Il nostro corpo è perfettamente simmetrico, la simmetria è organizzata nel segno dei gemelli. Abbiamo un cervello con due emisferi, due occhi, due braccia, due gambe, molti organi interni sono doppi. Quindi tutto questo ci fa comprendere che è così che dobbiamo muoverci nella forma. Però noi dobbiamo andare oltre questa contrapposizione, dobbiamo dialogare i gemelli. In effetti non sono altro che uno degli archetipi della comunicazione, dell'informazione che viaggia nell'aria, segno d'aria e soprattutto è molto movimentato, segno mobile. Quindi noi dobbiamo far dialogare le parti di noi per poter dialogare con il mondo esterno. Quindi è tutto un segno fondamentale per imparare a vedere i due lati della medaglia, i due lati della storia e cercare di fare i collegamenti, perché se io non faccio i collegamenti resto su una delle due polarità del famigerato pendolo, se vogliamo definirlo. Questo plenilunio per me perché è importante? Perché siamo sempre più dentro a questo movimento proprio che è stato innescato sugli otto gradi dei gemelli attraverso il bersaglio. E poi abbiamo appunto la sedna che anche se temporaneamente uscita dai gemelli proprio il 22 di novembre, qualche giorno prima, però era entrata in gemelli qualche giorno prima del novilunio, cioè del seme di questa raccolta. Quindi è significativo perché il suo episodio, io vi invito ad andarlo a rivedere, l'avevo intitolato Sprotocollo Matrix. Dobbiamo iniziare a comprendere che come noi interpretiamo, come noi pensiamo, come noi ipotizziamo siano le cose, spesso non è così. Perché? Perché dobbiamo aprire, creare nuove connessioni, nuove sinapsi nella nostra struttura per poterci, per poter attivare la capacità di ricevere, di ricevere nuove comprensioni attraverso quella che è la mente superiore di cui ovviamente è il segno opposto a darci tutti gli strumenti. Il plenilunio in gemelli accade con il segno, con il sole proprio nel segno del sagittario che deve trovare il senso, dare la sintesi, scoprire la verità. Ed è soprattutto importante perché poi nei gemelli il prossimo anno ci entrerà anche Giove e soprattutto avremo anche Venere che farà una nuova star point dal suo moto diretto. Quindi lo vedo veramente come un plenilunio di maturazione che ci fa un punto della situazione, ci dice ma tu che scelta di linea temporale, che scelta di universo stai facendo nella tua vita? Ti ho fatto vedere in questi mesi i due lati della medaglia, ci ha contribuito tantissimo anche Marte in gemelli che vi ricordo ha finito il suo viaggio proprio a inizio 2023. Ti ho fatto vedere tutti i lati della medaglia, tu stai ancora prendendo parte, prendendo uno dei due lati o stai cercando di andare oltre? Perché in quel novilunio il seme era una grande purga delle nostre modi di pensare ma soprattutto di accorgerci di chi pensa al posto nostro. E lì parlavo delle intossicazioni, c'era il simbolo sabiano dei poliintossicati, quello su cui sta lavorando la Venere con la sua star point del 13 di agosto e quindi se noi non ci accorgiamo di chi pensa al posto nostro, pensare, comunicare, chi parla al posto nostro, quali lati dentro di noi, noi rischiamo di essere pensati da qualcun altro e questo è fondamentale per tutto il lavoro che farà Plutone in acquario che vi ricordo è qui per aiutarci a fare l'umanità e a non a tradirla. E allora perché ho scelto il titolo Oltre i perbenismi? Io lo faccio vedere subito nella copertina. Ho scelto questo titolo Oltre i perbenismi perché quello che si sta muovendo nel diciamo così, quello che si legge attraverso le mappe, i movimenti che vi sto raccontando è che da tempo vi dico attenzione perché stanno per essere messi in scena, messi in scena, otto gradi dei gemelli dove è stata la congiunzione di Nettuno e Plutone nel 1891 e l'invenzione della, anzi il brevetto della cinepresa. È tutto funzionale a vedere quanto ancora io mi faccio rapire e ingannare dai due lati della storia. E il perbenismo è quel modo di pensare che si basa su un concetto di bene ideologico o su un concetto di bene immaturo o su un concetto di bene che mi è stato travasato dentro senza un minimo spirito critico da parte di me. Perché il seme era proprio, è arrivato il momento di educare noi stessi, di cominciare a comprendere, comprendere chi siamo, vedendo tutti i due lati di noi perché altrimenti rimaniamo degli eterni giovinetti, i gemelli diciamo così non cresciuto è l'eterno giovinetto e noi siamo tra l'altro in un anno 23, 23 uno degli epiteti è il Peter Pan restiamo degli eterni giovinetti che non vogliono prendersi la responsabilità e questo lo vedremo nella mappa di chiudere con determinati modi di pensare che ci fanno essere come dire gregari, ecco mi viene da dire gregari più che pecore, gregari di qualcuno che pensa al nostro posto che ci dà delle informazioni e noi le prendiamo per vere perché non abbiamo il tempo, non abbiamo la voglia non abbiamo lo stimolo a farci crescere interiormente, a farci una nostra idea perché noi stiamo andando verso l'era in cui dobbiamo far crescere quel bersaglio che è l'io sono dentro di noi quindi i risultati che vedremo in questo plenilugno sono chi ha iniziato a educare se stesso, ha iniziato anche a cogliere i segnali oltre l'apparenza delle cose di chi cerca invece di dare informazioni a dei polli per intossicarli e quindi ha visto anche i due lati in quella che è la crescita individuale, la cosiddetta crescita personale ma soprattutto di come funzionano le cose, quindi qui abbiamo una grande comprensione che vedremo sulla mappa rappresentata da una busta del vedere i giochi che ci tengono nella ruota del criceto e ricordo che Senna rientrata in toro 29 gradi il pavone che fa la ruota e vi ricordo che quest'anno il 2023 aveva un pavone nella copertina quella che ho fatto ovviamente di questo quindi sono come dire si stanno predisponendo a un cambio di paradigma perché il cambio di paradigma non è qualcosa che accade istantaneamente è qualcosa che accade un po' alla volta sono maturazioni e comprensioni però c'è già una parte una parte di individui che si stanno rendendo contro quindi sono quello zingaro che emerge dalla foresta da dove era accampato con la sua tribù che era il seme di questo novilugno 26 gradi dei gemelli e quindi comincia a vedere e qui è il punto importante di non prendere parte non prendere parte perché chi non emerge dalla tribù chi ancora ha bisogno di vivere con il ping pong di qua e di là di su e di giù vuol dire che ha bisogno ancora di quella esperienza quindi è fondamentale la vibrazione di chi comincia a vedere l'inganno dell'apparenza c'erano altri titoli che mi sono balenati per la testa per questo plenilunio uno era al di là del bene e del male perché me lo ricordavo questo titolo poi sono andata a vedere e ho visto che era un'opera di inizio ho detto non mi voglio impantanare in un terreno che non è mio perché non ho mai approfondito non ho mai letto inizio quindi non vorrei dire cose che mi che non sono di cui non sono competente oppure oltre il bene male apparente perché perché di fatto quando osservi i giochi in campo senza parteggiare riesci ad emanare da dentro di te quella frequenza del bersaglio dell'io sono dell'energia cristica che neutralizza senza fare nessuna battaglia è questo il cambio di paradigma che dobbiamo fare ovviamente dall'altro lato invece ci sono visto che questo è il menu cosmico qui visto che questo che ci spingeva a fare chi non ce la fa chi non riesce chi ancora ha bisogno di lezioni sulla contrapposizione comunque il movimento in campo mostra delle cose che possono scuotere la coscienza vi ricordo che abbiamo avuto da poco nel novilunio in scorpione che ho intitolato risucchio di coscienza cioè sono tutti i capitoli del libro della vita che stiamo leggendo e quindi saranno come dire il movimento che io leggo per chi non ha la capacità o ha bisogno di vedere altro qualcosa che è talmente eclatante ok e lo stiamo anche già vedendo perché ce ne sono di cose eclatanti che stanno accadendo per far sì che venga toccato qualcosa i beni su cui sentire una mancanza un senso di mancanza che è per mostrare l'evidenza di che cosa c'è oltre il bene apparente cioè gli inganni che sono stati perpetrati con la scusa del bene che cosa nascondono dietro quindi può essere anche spietata come visione questo non è che accade puntualmente il 27 di novembre iniziano tutta una serie di meccanismi perché poi ho visto anche le altre lunazioni perché lo scopo è spingere oltre i limiti dello sconosciuto questo è proprio il simbolo sabiano della luna quindi se io sono radicato cristallizzato nella mia ruota del criceto anche solo avere uno scossone di coscienza che magari non viene lavorato che magari non viene integrato noi dobbiamo avere la fiducia che quella cosa comunque è un livello ha messo un seme perché andare oltre i limiti dello conosciuto è un processo graduale che ciascuno di noi fa po' alla volta vi invito a osservarvi a osservare a fare una disamina di quello che pensavate anche solo non dico dieci anni fa perché le cose sono super accelerate adesso lo saranno ancora di più quando urano secondo me entrerà nei 19 gradi ma anche solo due anni fa anche solo quattro anni tre anni fa quanto è cambiato il nostro modo di pensare di vedere la vita quindi è un processo costantemente in movimento non c'è mai un punto d'arrivo infatti il sagittario il sagittario l'importante è il viaggio più che la meta il sagittario spara la freccia e quando raggiunge il luogo ne spara un'altra quindi è una costante apertura non possiamo pensare che perché anche un po' questa la mentalità che si sta diffondendo lo percepisco perlomeno cioè pensare che improvvisamente tutta l'umanità si risvegli non funziona così non è mai funzionato così la stessa natura osservatela siamo nel mondo della forma e quindi dobbiamo sottostare le leggi della forma la stessa natura si sveglia prima un fiore anche degli stessi anche degli stessi della stessa specie prima un fiore poi l'altro poi una gemma poi l'altra quindi noi dobbiamo far pace con questa dimensione della della forma perché solo accettando i limiti della forma possiamo andare oltre la forma e quindi aprirci a tutto quello che la vita ci vuole aiutare a vedere oltre il conosciuto che è proprio il la maturazione di questo plenilunio allora andiamo a vedere le mappe perché sono veramente molto interessanti allora la prima che vi mostro sono sempre le stesse mappe allora questa e questa sono la stessa mappa però siccome c'è tanta roba io ve le ho suddivise per per essere un po più ordinati allora io inizierei da questa perché c'è la busta di cui vi ho parlato la busta significa che c'è un messaggio c'è un messaggio quindi vuol dire che noi comprendiamo un messaggio stiamo maturando altro voltaggio quindi l'oltraggio che potrebbe manifestarsi sulla forma per scioccare per scuotere per far andare oltre i limiti del conosciuto e soprattutto oltre i limiti del perbenismo perché è pericolosissimo credere che il bene sia quello che ci racconta qualche istituzione dall'esterno che probabilmente aveva l'interesse a farci rimanere limitati nella nostra connessione con lo spirituale adesso sono stanno arrivando i tempi in cui ognuno deve intraprendere in funzione del suo livello di maturità un percorso di connessione spirituale quindi gradatamente ci sarà chi si allontana da quello che è istituzionale allora il la busta vedete ha come apice ingrandiamo un pochettino vedete che è una busta una busta aperta quindi c'è un messaggio da parte di giove è lui all'apice di questa busta alla parte di giove che è il governatore del sagittario dove noi abbiamo il sole il sole congiunto a marte diciamo così si sta allontanando perché la congiunzione è accaduta tra il 18 il 18 di novembre la busta giove c'è l'espansione anche se è retrogrado vuol dire che stiamo facendo un processo che sta come dire giove all'espansione del benessere però nel momento in cui è retrogrado vuol dire che stiamo rivalutando che cosa ci dà veramente benessere quindi è una comprensione per andare ad espandere la nostra realtà di benessere di sicurezza di valori allora giove parla di una slitta su un terreno che non ha la neve una prima accezione è la seguente io ho già la slitta manca la neve io sto già comprendendo come sto già intuendo come sono stato all'interno di una ruota del criceto però mi guardo intorno e mi vedo che non sono sembra che io sia solo il sole a quattro gradi del sagittario parla di un gufo solitario il senso di solitudine per aver compreso determinate cose quante persone mi dicono perché gli altri perché gli altri tu devi fare te stesso non puoi comprendere il piano divino vuoi saperne più del divino che ci sono dei tempi dei tempi perfetti delle tempistiche perfette ve lo assicuro perché io lo sperimento non lo credo lo sperimento lo leggo tutti i giorni quando faccio i temi natali quindi togliti di mezzo di pensare di sapere più del divino del progetto divino quindi questo senso di solitudine è una prova per avere fiducia che quello che sto comprendendo che quello che sto vedendo è vero anche se mi sento in una situazione precaria cinque gradi della cancro gli uccellini da tiro che fanno il nido gli uccellini da tiro una volta usavano gli uccellini per sparare non il piattello quindi il senso che cos'è questi simboli sono stati canalizzati negli anni 20 del 1900 cosa un uccellino da tiro che cavolo si fa il nido se poi domani ecco il senso della del presente il senso del presente stai nel qui e ora abbi fiducia che quello che stai comprendendo ti sta aiutando ad uscire dalla ruota del criceto perché guardate in questa busta abbiamo anche e oltre che la vesta che assieme a giove fanno la iod quindi vai oltre tu stai comprendendo non sentirti solo è importante la tua emanazione la tua comprensione il tuo andare oltre i limiti del conosciuto luna in gemelli quattro gradi ti fa uscire vedete che questi due vertici della busta sono in sono condivisi con questo quadrato che è una croce mobile c'è una grande guarigione che sta accadendo in te questo quadrato questa croce dice tu hai compreso che le cose non stanno come pensavi come cosa ti sei fatto e questo è il nostro saturno in pesci karmicamente parla una croce che giace su una su una roccia con la con la nebbiolina sta a significare essere vero a te stesso se sei vero a te stesso e hai fiducia di quello che stai comprendendo di quello che stai vedendo e che è parte di un progetto più grande quindi stai andando oltre i limiti del conosciuto puoi uscire dalla ruota del criceto perché qui abbiamo la lilith quindi quello tutto quello che faccio per dovere faccio per dovere fare 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 la vergine e quindi mi fa stare anche male lilith e la hecat sono un bibio sono un croce via tutto quello che ho retrocesso di me che parla della giostra della giostra del merry go round della giostra giostra che stiamo vedendo stai comprendendo i giochi della vita perché è un progetto cosmico in atto ti stai distaccando per vedere questi giochi e quindi quando tu guardi quando più coscienze guardano con questa vibrazione interiore stai già partecipando stai già contribuendo al cambio di paraguima ok quindi questo è il senso della busta per chi è in questa fase per chi non è in questa fase significa che il messaggio che deve arrivare è proprio questo devi vedere che sei dentro la ruota del criceto e quindi come come lo fa lo fa se è il messaggero in questo caso l'apice della busta è giove governatore della del sagittario che cosa fa è ti fa sentire che manca qualcosa o la slitta mi manca la neve con un senso di mancanza perché quello è il motore che spinge e quindi il senso di mancanza può essere di vario tipo senso di mancanza economico il senso di mancanza affettivo il senso di mancanza di sicurezza perché lo dicevo nell'articolo dedicato a sedna che è tornata in toro l'ultimo affondo di sedna farti vedere l'evidenza che c'è stato un paradigma in cui il benessere era solo fatto di promesse che ora dovevano vedere far vedere che erano promesse da marinaio e che un mondo come tu lo pensavi che sembrava un mondo dove c'era chi sembrava avere fare il bene magari non lo sta facendo ma perché perché devi farti delle domande andare oltre i limiti del conosciuto gemelli farti delle domande dire oh oh ma cosa è sta storia ma cosa sta succedendo perché vi ricordo che il novilunio altro voltaggio c'era la parola oltraggio e perché accaduto vi con i nodi sui scepli a tractor devi vedere dietro le quinte di questo mondo apparentemente per bene che poi lo sappiamo che non è per bene ma qui si devono svelare i falsi perbenismi ok e allora andiamo a vedere queste nostre iod che ho messo da parte perché perché è fondamentale in quanto coinvolgono coinvolgono i due governatori dei gemelli noi sappiamo che il governatore è mercurio esatto mercurio il governatore tradizionale ma venere il governatore esoterico e vedete che entrambi hanno un aspetto l'ho voluto evidenziare in grassetto un aspetto critico una quadratura quindi vuol dire che c'è uno schema da rompere uno con plutone e questo è la rottura spietata di accordi e di modi di pensare al bene 21 gradi della bilancia e dove abbiamo avuto il novilunio in bilancia il novilunio in bilancia che era un eclissi 14 di ottobre ma dove vai vieni qua ma che fai e parla di dare da bere agli uccellini alla fontana quindi è un bene manipolativo il perbenismo e guardate poi mercurio mercurio che è in quadratura quindi rottura di schemi con nettuno che cosa significa questo è un modo di pensare mercurio in sagittario è un modo di pensare autoreferenziale dogmatico che è stato inculcato da una serie di falsi insegnanti spirituali adesso una parte sono quelli che della new age ma poi anche a quello che c'è stato inculcato da organizzazioni religiose questi sono i classici 24 gradi della pesci dove tornerà diretto a dicembre nettuno quello della congiunzione con giove il no agenda quindi tutta una manipolazione per farti entrare in un concetto di bene che è funzionale a farti dividere sempre le cose in due ad essere sempre schierato ad avere l'equilibrio e invece qui c'è infatti venere deve raggiungere l'equilibrio venere in bilancia ma deve saper fare deve saper riconoscere il bene al di là di quelle che sono le ideologie soprattutto inculcate da organizzazioni religiose 24 gradi dei pesci un'organizzazione religiosa riesce a superare le influenze corrotte di pratiche perverse al proprio interno e qui urano 20 gradi del toro apice di una iod parla di un libro puntato su una riga di un libro quindi sei stato educato a rimanere a non stimolare le tue domande a non comprendere cosa è il bene e il male ti è stato messo tu dentro hai incapsulato concetti di bene e male concetti di dio dio immagine somiglianza dell'umano saturno in pesci e quindi cosa vuol dire guarda qua cosa ti sei fatto guarda qua chi apparentemente faceva il bene sta facendo bisogna che sia eclatante l'evidenza per scuotere dall'ignoranza fa anche assonanza quindi queste queste iod io le vedo proprio come spinta a vedere la falsa bontà quella da mulino bianco quella che agisce anche in noi vederlo dentro di noi quella che ha inculcato delle paure per fare il bene per poter pregustare il paradiso 24 gradi del sagittario qui avremo la congiunzione più avanti a fine dicembre con marte pregustare qualcosa non dico a caso il paradiso perché ho guardato anche gli angeli c'è l'angelo collegato ai quattro gradi dei gemelli che parla è l'ezalel che abbiamo già incontrato sui zero gradi dell'acquario il paradiso in terra ti crea un'aspettativa adesso utilizzo gli angeli viene creata un'aspettativa devi fare il buono il bravo perché sennò vai all'inferno se vuoi essere felice e tutto questo crea delle repressioni ci crea delle scollegamenti con i vari lati di noi 9 lunio in scorpione 9 lunio in scorpione noi dobbiamo andare dentro noi stessi dobbiamo comprendere sono tutti pezzi collegati quindi queste iod io le vedo proprio per far vedere dove c'era il falso bene e queste cose stanno emergendo sempre di più esso però a noi servono per riflettere per comprendere quanto dentro di noi c'è il falso bene quanto dentro di noi c'è il condizionamento di un modo di pensare che altri hanno fatto il posto nostro vi ricordo è importantissimo sviluppare l'autonomia di pensiero per un confronto perché il quando plutone entrerà definitivamente in acquario a novembre fra un anno circa novembre 2024 perché ci entrerà già all'inizio del 2024 ci starà per un po di mesi poi settembre novembre tornerà in capricorno ma tradire e fare umanità se io non comprendo non mi prendo l'impegno guardate qua scusate mi è tornato in mente una cosa di questa coperta di questo di questa croce di questa croce chi ha compreso ha compreso cosa lo irretiva dentro di un sistema di credenze di convinzioni deve decidere eccate di uscire da quella ruota quindi saturno richiede un impegno richiede un impegno cioè il la comprensione di chi siamo dei due vari lati di noi l'apertura di coscienza richiede un impegno non è una cosa da tempo così perso deve diventare la nostra quotidianità e vedremo l'importanza di mercurio che è il governatore dei gemelli perché quest'anno la sua retrogradazione è fenomenale passerà tre volte sul centro galattico e soprattutto toccherà le tematiche andrà a riprendere delle cose dell'anno scorso toccherà le tematiche dell'immigrazione perché torna diretto a 22 gradi del sagittario degli immigrati delle persone riescono a soddisfare i requisiti per l'ingresso in un nuovo mondo che lo spirito comunica analogicamente sulla forma sta manifestandosi con queste tematiche dell'immigrazione che riguardano un po' tutti con queste tematiche di non andare bene ma a livello analogico più alto significa se te ti stai predisponendo al cambio di paradigma perché non c'è nessuno che viene là con le mani te le mette così e ti fa la magia e ti porta nell'uomo dobbiamo farlo noi individualmente comprendendo facendo dei percorsi seri non fuffologici ok? quindi tanta tanta roba io dovrei aver detto tutto e sì puntare il dito di Urano guarda come se sta cosa c'era dietro le quinte sì ho detto tutto quindi gli abbagli eccetera eccetera quindi io vi ringrazio per l'attenzione mi sono un po' accaldata perché questa è la mia passione per quello che è vero per quello che leggo e ci vediamo al prossimo appuntamento che non so se ce ne saranno altri prima del 9 luglio in Sagittario penso di no e vi ringrazio se condividerete questo video ciao